Sei commercialista o consulente del lavoro e non ti soddisfano appieno le banche dati di vecchia generazione che continui a pagare ogni anno? Quando hai un dubbio cerchi la risposta in un mare di informazioni e alla fine speri di trovare supporto su Google. Oggi esiste una soluzione innovativa che oltre a risolvere questi problemi ti dà la possibilità di frequentare gratuitamente i migliori corsi di formazione accreditata in Italia. MySolution, un sistema integrato di aggiornamento che ti permette di rimanere sempre aggiornato sulle normative e su tutte le novità. MySolution sarà il tuo salvagente per ogni necessità. Ti informerà giornalmente, ti darà sempre le risposte che cercavi e ti eviterà errori gravi e compromettenti. Ogni giorno infatti, accedendo al servizio, sarai informato di tutte le novità e avrai a disposizione documenti e report in grado di chiarirti e aiutarti ad applicare le nuove norme introdotte o modificate. Tutti gli abbonati potranno frequentare gratuitamente oltre 40 ore di lezione dei nostri corsi di formazione, che hanno un valore di mercato di oltre 600 euro. Lezioni tenute da relatori di alto livello, incentrate sulla pratica e sull'operatività, che non seguono il classico taglio teorico. Con MySolution, sottoscrivendo un solo abbonamento, permetterai a tutti i collaboratori dello studio di avere accesso al servizio autonomamente e contemporaneamente e di rimanere sempre aggiornati. Inoltre, troverai più di 100 guide costantemente aggiornate e un'assistenza personalizzata. Grazie alla sua grande fruibilità, MySolution soddisfa tutti i suoi iscritti, con un indice di rinnovo annuale che supera il 98%. Fai lavorare il tuo studio in totale serenità, con la sicurezza di avere sempre tutto sotto controllo. Clicca ora per ricevere una consulenza gratuita.